Non c'è luogo al mondo in cui l'uomo è più felice che in uno stadio di calcio, diceva Albert Camus, e non c'è frase più vera. Dopo più di un anno, ieri anche in Toscana, è tornato il pubblico negli stadi, i primi a beneficiarne, i toscani dell'eccellenza. La quinta serie è tornata in campo con il pubblico e anche il caldo, non si sente quando è sugli spalti. A Signa, durante Signa a Pontassieve, il gruppo organizzato dei Boys ha sostenuto la squadra alla vittoria, mostrando tutta la voglia di calcio e di tifare. Cori, fumogeni e festa l'hanno fatta da padrone per la vittoria finale degli uomini di Cristiani. Ripartire si può anche nel calcio alla raperta, sempre ovviamente con le restrizioni. Ripartire si può anche nel calcio alla vittoria finale degli uomini di Cristiani.